Di fronte alla violenza, all'ingiustizia, all'oppressione, il cristiano non può chiudersi in se stesso o nascondersi nella sicurezza del proprio rezinto. Anche la Chiesa non può chiudersi in se stessa, non può abbandonare la sua missione di evangelizzazione e di servizio. Gesù, nell'ultima cena, chiese il Padre di non togliere i discepoli dal mondo, di lasciarcici lì nel mondo, ma di custodirci dallo Spirito del mondo.